Si è chiusa a mezzanotte la campagna elettorale. Gli ultimi comizi dei sette candidati sindaco ospitati in Piazza Progresso, Piazza Sant'Angelo e Piazza Attilio Regolo hanno scritto la parola fine a mesi di incontri, dibattiti pubblici e confronti che quasi mai hanno appassionato la gente, rimasta sempre un po' fredda, al di là delle formazioni elettorali già delineate. Oggi pomeriggio è previsto l'insediamento nei seggi delle 42 sezioni, con presidenti, segretari e scrutinatori sorteggiati che avranno il compito di preparare il terreno in vista di domani e dopodomani. Ieri intanto sono state rese disponibili le sette scuole che fungeranno da sedi per la tornata elettorale. Si tratta dell'Istituto Comprensivo Guglielmo Marconi, della Dinoliotta, della Vincenzo Greco, dell'Aperitore, della Leopardi, della Don Milani e dell'Angelo Parla. Sette plessi scolastici che ospiteranno 41 sezioni. La 42esima sarà infatti quella posizionata all'ospedale San Giacomo d'Alto Passo per permettere anche ai degenti della struttura sanitaria di Contrada Cannavecchia di esprimere la propria preferenza. Negli ultimi giorni, abbastanza inspiegabilmente, si era sparsa voce di un possibile rinvio della tornata elettorale. Voci che sono state prontamente spente per mezzo di una nota ufficiale di Palazzo di Città. La città, è quasi superfluo sottolinearlo, arriva a questa tornata elettorale dopo ben nove mesi di commissariamento. Due i commissari regionali che si sono alternati in questo lasso di tempo. Da prima era toccato a Dario Cartabellotti e successivamente a Maria Grazia Brandara, con quest'ultima che rimarrà in carica fino a quando non arriverà la proclamazione del nuovo primo cittadino eletto.